A Conmezzadura, in Val di Sole, c'è una principessa in pericolo. Aiuta Olasa a scappare trovando gli spiriti amici della natura. Tappa dopo tappa incontrerai delle creature magiche. Fiori, tartarughe, binocoli, corone. Risolvi il mistero dei simboli che riveleranno la parola magica e voilà! Il giardino segreto sarà il posto dove la principessa potrà stare al sicuro grazie al tuo aiuto. Ritira gratuitamente il libretto L'Ufficio Informazioni e comincia questa avventura. Grazie a tutti!